Ciao, sono Maurizio Signorini e vorrei parlare con voi del IV Congresso della dentistica microscopica. Sarà il 10, 11 e 12 di novembre 2017 in New Delhi, India. Per questo avvento ho invitato alcuni dei più importanti speciali di questa disciplina di tutto il mondo e vorrei raccontare con voi questa meraviglia opportunità di ascoltare e imparare i segreti di questa nuova approccia alla dentistica. 22 parlanti sono lecturati su tutte le specialità di dentistica per significato dell'operazione microscopica. Io e il team del mio club internazionale, chiamato il Club Microscopico Dental, lavoriamo per sviluppare questa filosofia di sviluppo che sarebbe un nuovo inizio nella dentistica. Credo che la dentistica microscopica potrebbe essere un strumento di ogni giorno per tutti i dentisti del mondo, per il beneficio dei loro pazienti. Perciò in questo congresso troverete quale sia importante per questo approccio alla professione e la dimostrazione live che con il microscopio tutto è meglio. Spero che vi trovi in un nuovo giorno. Grazie. Grazie a tutti.